e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ryan Italy Channel oggi ragazzi come potete vedere ho cambiato look, ho cambiato maglia infatti oggi ho quella della Svizzera come potete vedere perché lo sapete come ogni volta che c'è una partita di calcio di europei diverso mi metto la maglia di quella squadra e oggi ovviamente siccome come ben sapete come ben saprete c'è la partita Svizzera-Scozia e ogni volta che c'è una partita mi metto una maglia di quella squadra che gioca in quella partita e poi funziona così funzionano così i video perché siccome c'è l'europeo faccio sempre così, era una novità che volevo fare e ve l'ho rispiegata però passo subito al sodo io vi dico il pronostico allora di questa partita Svizzera-Scozia siccome c'è la bagnetta della Svizzera addosso per me il mio pronostico è di 1-0 per la Svizzera dai, pure 2-1 no, facciamo 1-0 e io la vedo una Svizzera abbastanza forte con Shakiri, Ciaka, Vargas però anche la Scozia non scherza perché anche la Scozia c'ha dei giocatori forti bisogna dirlo però io ci vedo di più la Svizzera che vince che comunque la Svizzera c'ha una difesa molto 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 che attacca c'è molto molto prudente che sta molto attenta a tutte le palle secondo me, c'è quello che penso io che secondo me c'ha un'ottima difesa poi penso io, poi rispetto alla vostra opinione però anche la Scozia non scherza anche la Svizzera c'ha un ottimo attacco e anche la Scozia, i giocatori della Scozia tirano e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su iscrivetevi al canale qua sotto e buona partita a tutti ciao